Mi dovete dipanare se ci riuscite queste situazioni. Allora, Higuain, Icardi, Dzeko, Lukaku. Questo poker di attaccanti, in base alle vostre sensazioni, in base alle vostre conoscenze, qual è il futuro? Anche di bala, anche di bala. Mettiamoci pure di bala, perché è entrato di diritto dentro questo meccanismo, Luciferino. Toni Damascelli, partiamo da te. Cominciamo da Lukaku? Sono tutti legati, proprio intradipendenti tutti quanti. Intra o inter? Interdipendenti, sì. Inter nel senso... Non ancora, verità non ancora, però Gekko non ancora dipendenti. Alcuni potrebbero diventare e alcuni sono già. Allora, la trattativa tra Inter e a proposito, tra Inter e Roma per Gekko, questa è chiara, in attesa di potersi definire, secondo qualcuno potrebbe definirsi oggi. Io vado sulle cose di cui mi sono informato. Lukaku è un obiettivo della Juventus nella trattativa che potrebbe portare non soltanto di bala a Manchester, ma anche un altro juventino. L'altro juventino potrebbe essere Ken, che entra in un discorso inglese. Dopodiché c'è ancora Higuain diretto verso Roma, quindi la Juventus si libererebbe di tre giocatori in una volta sola. Aggiungo una notizia, un'informazione su Icardi, la frase che mi è stata riferita è «Tutti lo vogliono, nessuno lo chiede». «Tutti lo chiedono, nessuno lo vuole». È come la sora Camilla. La sora Camilla, Tony. E aggiungendo che devono darlo via a prezzo di saldo. Ah beh, ma è chiaro, è certo. È chiaro fino a un certo punto. Si sono accorti in ritardo di aver commesso un errore di comunicazione. Molto. Beh, meglio tardi che mai. Allora, cerca di dire... Meglio tardi che mai. Dipaniamo questa matassa secondo Vocalelli, come all'inizio di questa settimana, che può succedere? Allora, a me risulta esattamente la stessa cosa che dice chiaramente Tony, che chiaramente conosce le cose giuventine anche meglio di me. Anch'io penso che nella vicenda con il Manchester United possa rientrare anche qualche altro giocatore. Oltre a quelli che ha detto Tony, io sento parlare anche di un difensore, insomma. Comunque, ecco, è un'operazione molto complessa. Però, anzi molto articolata, però reale, insomma, su cui si sta lavorando. Non è soltanto un'operazione di disturbo, come qualcuno pensava all'inizio, nei confronti dell'Inter, così con una sorta di rispetto. Dico anche, ma questa, qui adesso invece entro nell'aspetto tecnico, diciamo, io credo che alla Juve serva più Lukaku di Cardi. Mi sembra un giocatore più congeniale, diciamo, ai movimenti, al calcio di Sarri, più congeniale alla possibilità di aprire spazi e di fare anche da sponda importante dal punto di vista atletico per Ronaldo. Insomma, mi sembra un giocatore di movimento che ci sta meglio. La Juve è andata sui Cardi perché rappresenta chiaramente un'occasione nel momento in cui ci sono quei problemi dal punto di vista tecnico. Ma se si apre questa trattativa con il Manchester, per cui diventa un'occasione anche di scambio, ripeto, secondo me, non so come finisce ancora, ma Lukaku mi sembra che sia più logico per la Juve di Cardi. Furio? Ma io sento quello che dice Toni, che conferma Sandro, e quindi un po' mi adego. Io l'unica cosa che continuano a dirmi dall'Inter è che Lukaku non andrà, che... Il Cardi non andrà alla Juventus, ma io credo che si possa dire Higuain alla Roma e penso che Icardi rimarrà senza squadra, perché quello che diceva Toni è vero. Senza squadra? Senza squadra? Sì, rimane all'Inter. Rimane all'Inter. Ragazzi, pensateci a quello che diceva Toni e che stiamo dicendo da un po' di giorni, cioè, questo è Comasola Camilla, tutti la vogliono, nessuno la piglia, cioè, ditemi chi ha fatto un'offerta vera per Icardi. Vabbè, ma è stato anche un po' devastato nell'immagine, ragazzi. Eh beh, aspetta, non voglio. Lario, io non sto facendo adesso una... faccio solo una constatazione. Quanti... Quanti... Icardi ha fatto tanti gol, è un giocatore importante. Cavolo, non c'è nessuno che si è fatto avanti. Dicevo, ragazzi, se avete questo giocatore, è in saldo, vediamo di metterci d'accordo sul saldo. E c'è una squadra... Il Manchester United perde Lukaku, prende Icardi e non ci pensa minimamente. Pensano a Dybala, pensano a Milinkovic, pensano a Ken, ma non pensano aicardi. Io perché non lo so, adesso mica voglio dare tutte le colpe a Vandalara, per l'amor di Dio. Però è strana questa cosa, capite? No, no, anche quando c'è la... Sempre in l'ambito delle preferenze, Furio, io non so se ci sia una possibilità, qualcuno dice che magari l'Inter proverà a parlarne con la Roma. Io fossi la Roma, onestamente, tra Iguain e Icardi. Prendi Iguain? No, io prendo Icardi, prendo un giocatore... No, ma io non faccio una valutazione tecnica, qui devi fare una valutazione... Devi prendere il pacco completo, eh? Sì, però... Perché mentre c'è questo casino, non c'è una sola dichiarazione del ragazzo, del giocatore, e la moglie continua a esibire fotografie che nulla centrano con l'attività del marito. Ma lo sai come la penso, con Iguaini, per cui... Però tirano i click. Pensi che questo non significa niente? Scusami, pensi che quello che ha detto adesso Toni non significa proprio niente? No, significa, però ecco io... Ma scusami, ma tutti quanti, questa continua a fare fotografie del lato B, e il marito non sa dove deve giocare, e lei continua a fare la civetta... Non sono lato B, anche le altre cose sono... Chi ha una squadra importante, ci pensa evidentemente queste cose, perché i ragazzi fanno effetto, non sta dando un'immagine. In questo momento lei dovrebbe tacere, dovrebbe parire, e non lo fa, e il marito non... Oppure, Furio, se davvero la donna, la persona, la figura che si occupa e tutela il proprio assistito, in questo caso il marito, lei convoca una conferenza stampa che non è tiki-taka, e dice come stanno le cose, tutela al massimo il proprio assistito, il proprio assistito fa una dichiarazione definitiva, fine della puntata, e lui continua ad allenarsi, lei continua a farsi le sue fotografie, fa quello che vuole, ma così stanno giocando, stanno giocando con la carriera di un calciatore, tutte e due. Lui sembra un bambino in questo caso, un bambino, accetta a prescindere, sia quello che fa l'Inter, sia quello che fa la moglie. Non mi sembra una figura di professionalità proprio per un club come la Roma, come il Napoli, come la Juventus, come il Milan. No, ma Tony mi stasca al canno a sinistra, io sono d'accordo con lui, anzi l'altro giorno mi dicevo che lui ha mille colpe. In questa situazione però di mercato, secondo me, può diventare un grande affare, nel senso che proprio perché... Ma sicuramente lo è, Sandro, lo è. In questo momento tu hai dei rapporti aperti con la Roma, anzi tu con Roma ce l'hai con l'Inter, vai a cercare giustamente una supervalutazione di Jacobs, e allora ecco io, tra virgolette, diciamo così, per i cardi, un rischio che sia un rischio non sicuramente tecnico, e magari in questa situazione lo corro anche perché mi sembra un giocatore che può ricostruirsi completamente, può provare a ricostruirsi. Sentiamo Roberto Pruzzo, eh, non solo sui cardi, bomber, ma anche sui cardi, Geco, Lukaku e Di Galli. Io ti dico, se la Juve prende Lukaku io do le dimissioni ufficiali da testa di calcio, come faccio come Franco. Testa di calcio. Testa di calcio proprio mi do le dimissioni perché troppo non vedo la necessità di prendere un... Cioè, tra i centri avanti, se poi dopo ne cedi qualche d'uno, se come dice Tony riescono a mettere in piedi una trattativa, io forse non ci vedo proprio la necessità di andare a incasinare un'altra volta, ce ne hai tre gli attaccanti, tre, e quindi io aspetterei. Sai cosa vuol dire avere tre attaccanti? Sai cosa vuol dire avere tre attaccanti per il bilancio? Ho capito, ma li devi cedere, io non lo so se riuscirà a no, non ti vai a prendere Lukaku, ma io Lukaku non ci penserei proprio, comunque... Ah beh, tu fai una valutazione tecnica, sai, puoi aver ragione. Che non ti piace. E' un altro discorso. No, no, non mi piace proprio, io proprio non ci penso neanche a un giocatore di quel livello lì, però avendo... Romana siamo d'accordo su questo, eh, siamo d'accordo sull'eccessiva valutazione di questo ragazzo, di questo giocatore belga, però... Ma sai Tony, le valutazioni eccessive sono tante, perché Pepe vale 80 milioni? No, ma ancora peggio Cavani, ragazzi, 50 milioni a 30 milioni, ma sono matti... Ma Pepe, Pepe, questo ragazzo... Ma Pepe è 80 milioni, ragazzi, ha giocato... Però ha 24 anni, però ha 24 anni... Ma quelli che parlavano della valutazione di De Ligt a 75, stiamo parlando di De Ligt capitano dell'Ajax, insomma quello che è, e poi Pepe è 80, ha giocato mezza stagione questo ragazzo, eh. Ma il prezzo di De Ligt sarebbe stato ancora più alto se Raiolla non avesse avuto un accordo dell'anno precedente. Sì, ma non è stato più alto. Sì, ma l'Inter a questo punto, la Juventus a questo punto ha fatto un grande affare, perché se Pepe vale 80 milioni, De Ligt vale 150, ragazzi. Vabbè, ho tutti i citi. No, no, ho tutti i citi, ho considerazioni. Io ho cosa vuoi che ti dico, se uno potesse pensare... Io abiterei Geco e capisco pure che l'Inter sta facendo tutto il possibile, ma la Roma non ha nessuna utilità di prendere Higuain, ma perché ti devi andare a prendere un giocatore che non ci vuol venire, che costa più di Geco, che vuole che sia quattro anni... Il doppio di Geco, il doppio. Ma il Carbi invece lo prenderesti alla Roma, bomber? Ma il Carbi... Certo, la motivazione, la voglia è anche di mettersi in discussione, questa gente non ce l'ha, e quello è anche un ottico che mi fa pensare di non fare dei sacrifici per della gente che forzatamente ti viene a fare un favore. In quest'ottica qui, per l'amor di Dio, sono grandi campioni, però ragazzi, almeno dai un segnale, no? Sembra che ti fanno un favore. Io sinceramente faccio fatica a capire perché una società deve cedere il proprio attaccante che pure sarà anziano, sarà avanti con l'età, per prendere uno che costa il doppio e che magari non è abbastanza forte, oppure non ha nessuna motivazione per andare in una società, e quindi è un casino, dai, è già un casino di sé. Infatti, Roberto... Sì, ma scusami, questo discorso... Ma perché io devo andare a fare un favore a una società, andare a liberare... Roberto, scusami, hai ragione, però questo discorso stranamente quest'anno riguarda soprattutto la Roma, gli allenatori non vogliono andare alla Roma, Iguain va controvoglio alla Roma, Dzeko vuol venire via dalla Roma. Qualcuno si deve anche chiedere come mai. Eh, ma da una parte... Controprova con Dzeko la farei, andrei a provare ad andare da Dzeko e dirgli, guarda, la situazione è questa, ti offro tre anni di contratto a 5 milioni e mezzo, 6 milioni di Euronetti, che fai, rimane o no? Io penso che chiedere è lecito, poi rispondere cortesia, però quantomeno un tentativo lo farei, perché magari Dzeko di pronte... Beh, ma credo che non abbia nessuna intenzione di aumentare però l'ingaggio a Dzeko la Roma, Sandro. Eh, ho capito, ma perché? Perché? Perché lo fa per Iguain e non lo fa per Dzeko? Cioè per Iguain ci mette sul tavolo comunque quasi 40 milioni e gli aumenta l'ingaggio. A Dzeko no. A Dzeko continuerebbe a prendere anche l'Inter se dovesse venire lo stesso stipendio che ha oggi alla Roma, quindi solamente avrebbe due anni di contratto in più. Sì, Alessandro, ci sono dei criteri che appartengono a direttori sportivi o presidenti, perché bisogna dar via Di Bala quando Di Bala ancora può dare qualcosa e bisogna comprare un giocatore che ha una valutazione eccessiva e ci sono, ribadisco, degli interrogativi, anche Pepe stesso, 80 milioni per il Napoli. Ma cos'è? Che cosa significa questo ragazzo? Non possiamo ragionare con la nostra testa, purtroppo. In alcuni casi bisogna ragionare con la testa e dei procuratori e dei direttori sportivi e dei presidenti e degli allenatori. Mettere insieme tutte queste cose ti porta poi a degli eccessi. Adesso ci sono delle formule di rescissione di contratto, di clausole di rescissione a 100 milioni, a 120 milioni per ragazzi di 16 anni. Pazzia proprio, pazzia proprio. Tanta per Pepe fa bene lo dito a chiedere a 120 per Milinko. Ma difatti io spero che De Laurentiis non cada nella trappola e faccia andare i ragazzi d'Inghilterra. Invece proprio al volo, l'inserimento della Juve per Lukaku, Tony, come lo giudichi? Te l'ho detto, ma non c'entra niente l'Inter. C'entra la richiesta da parte del Manchester di Dybala e di un altro giusto. E quindi in quel momento tu perdi due attaccanti, il terzo dovrebbe andare via e prendi un attaccante che loro vogliono andare via. Cioè tu dici, in questo rimescolamento, la Juve sta cercando di piazzare Higuaín, quindi darebbe Ken e Dybala e prenderebbe Lukaku e terrebbe Manzovic a quel punto. Non è ancora detto, anche lui potrebbe andare via. Perché Manzovic c'è nella situazione, a differenza di Dybala e di Higuaín, di essere il classico giocatore dell'Est, Gesco, non si incacchi, che è arrivato a un certo livello, gioca perché ha un contratto, però non è proprio coinvolto nel discorso tecnico e tattico del club. È un po' così, si è visto in queste prime amichevoli, lo fa perché è un professionista, ma non rappresenta il presente e il futuro né di Sarri né della Juventus. E poi lui ha prolungato per un anno il contratto qualche mese fa, quindi fino a 2021 sotto contratto. è meglio, no? È meglio perché puoi forzare sulla richiesta di mercato, se fosse invece a scadenza... Ma comunque da queste prime uspite mi sembra di poter capire che Manzovic non rappresenta l'ideale di Sarri, quindi se rimane, rimane con un ruolo secondario, altrimenti va via. Sì, sì, dà un po' da tappa a buchi, a me hai ragione.